Sono Pincinetti Solare e vi presento Heliosan, il sistema solare monoblocco pronto all'uso per la produzione di acqua calda sanitaria. Il sistema si compone di un pannello solare selettivo, di un serbatoio d'accumulo coibentato. I raggi del sole scaldano la piastra e mandano in evaporazione l'alcol contenuto nel fascio tubiero il rame. L'alcol in fase del vapore saturo condensa in uno scambiatore contenuto nel serbatoio. L'alcol torna nella parte bassa del collettore solare. Per analogia è esattamente la stessa cosa che accade nell'evaporazione dell'acqua del mare, nella condensazione delle nuvole e nelle successive piogge. Heliosan è disponibile in due taglie, 100 litri 2 metri quadri, 150 litri 2,4 metri quadri. Le due dettaglie sono affiancabili e quindi possibile comporre qualsiasi tipo di configurazione. Per approfondimenti è a vostra disposizione il nostro sito www.picinettisolare.it Per ogni esigenza potete chiamarci al 337 80 25 36. Grazie a tutti!